Dal 3 all'11 dicembre 2016 al centro Umbria Fiere di Bastia Umbra torna Expo Regalo con una 33esima edizione ricchissima di novità e imperdibili sorprese tra eventi, enogastronomia e shopping natalizio. Il Salone Nazionale del Regalo sarà anche quest'anno la più grande vetrina natalizia del centro sud Italia con 4 padiglioni specializzati, 450 stand espositivi, un'ampia area dedicata ai bambini e un grande palco animazioni. Il format sempre originale e innovativo trasporterà tutti nella festosa e colorata atmosfera del Natale regalando divertimento e allegria ai grandi e piccini. Ascoltiamo Aldo Amoni, presidente di Eptacomf Commercio. Le novità in assoluto abbiamo rivisto completamente l'Expo Regalo, abbiamo fatto questa grande novità che è l'Umbria Italia in tavola, Italia in tavola è un'autostrada con 20 uscite che rappresentano 20 uscite regionali, ogni regione proporrà il proprio menu quindi ognuno di noi può pranzare e cenare all'interno dell'Expo Regalo, possiamo stare insieme scegliendosi una regione che gli aggrada più il menu. Ma ci sarà spazio anche per la solidarietà, sentiamo come. Questa cosa dell'economia che lei mi dice, questa cosa di solidarietà lo facciamo anche per rilanciare l'economia e per dare veramente, si chiamano infatti Natali insieme per ricostruire questa cosa di solidarietà, per dare l'opportunità a queste imprese di rimanere nel territorio e dargli la possibilità di ripartire quell'economia nei territori dove hanno subito i danni. Grazie e buona giornata.